Eccoci, bentrovati e bentrovate su Radio FSC Unimore nel format Intraviste, la rubrica delle interviste di Radio FSC Unimore, format che da oggi fino al 25 è in versione speciale perché oggi è il primo giorno di DIG, il festival di giornalismo investigativo che per il terzo anno di fila si svolge a Modena e questa in particolare è l'ottava edizione del festival. Io sono Giorgio e oggi avrei il piacere di intervistare Gabriella Giandelli. Grazie davvero per essere qui con noi. Grazie a voi. Gabriella è una illustratrice, una fumettista milanese, un'artista eccezionale che ha nel corso della sua carriera collaborato con testate e case editrici anche di livello internazionale, giusto per citarne qualcuna la Repubblica, l'Espresso, l'Internazionale, anche Louis Vuitton, insomma. Nel DIG in particolare sarà esposta tra pochissime in realtà la sua mostra personale chiamata Disegni e dedicata a Matteo Scanni, che si darà alle 17.30 nel complesso San Paolo, chiesa e sala delle monache. Ora, fatte le duperose presentazioni e entriamo più nel merito dell'intervista. Io sono sempre stato affascinato dal tuo mondo, dall'arte di raccontare, di raccontarsi, di esprimersi attraverso le immagini. Quindi innanzitutto ti pongo una domanda magari banale, ma quando e come hai capito che questa sarebbe stata la tua strada? Allora, premesso che i dubbi ci sono sempre, però credo di aver avuto intuitivamente già fin da molto piccola. Più che altro ho un bisogno di esprimermi attraverso il disegno. Era un po' come un compagno, come un amico da cui andare, cioè per ritrovarmi, per non essere sola e con il disegno poter esprimere magari cose che non avevo la forza di dire a voce o che non avevo persone a cui poterle raccontare, non so. È sempre stato un grande rifugio per me il disegno e lo è tuttora. Questo non l'ho detto nella presentazione, ma tu sei l'autrice, sei stata incaricata di realizzare per quest'anno il simbolo del dig, il cosiddetto watchdog. Che significato hai a questo simbolo e com'è stato realizzarlo? Ma io tra l'altro in questo periodo sto lavorando molto sugli animali, quindi la richiesta di trovare un cane simbolo, come tutti gli anni ogni disegnatore fa per il festival, è arrivata in un momento in cui anche mi sentivo molto nel mood del disegnare animali, anche del riflettermi un po' negli animali, in questa loro forza. Io trovo che gli animali abbiano sempre uno sguardo molto puro, molto forte e in questo caso ho proprio pensato al cane che avrei voluto io, un cane che vorrei e che fosse un cane dolce, ma anche forte, ma anche acuto, che vedesse tutto, che vedesse con chiarezza, con onestà le cose e mi è venuto questo cane che poi irradia anche la sua luce attorno a sé. Ecco, la prossima domanda si collega un po' a quello di cui abbiamo appena parlato, perché ti volevo chiedere quali sono le tematiche che anche nel corso della tua carriera hai preferito e preferisci affrontare nelle tue opere? Magari perché, quindi hai parlato ora degli animali, però non so se ci sono altre... Ma considera che quando ho fatto fumetti e anche adesso che sto cercando di farne uno nuovo, ho sempre cercato di focalizzare la storia su un'idea di, come dire, di fatica, di disagio dei personaggi nello stare in un contemporaneo che non gli corrispondeva e poi questo si è declinato in storie differenti, però, come dire, c'è sempre stato questo sottotesto in ognuno dei miei lavori. Adesso ho appena fatto un libro appunto su degli animali, ma che animali che vengono a popolare il mondo che non appartiene più agli umani, quindi c'è quest'idea un po' distopica, però nel mio caso invece si tramuta in qualcosa di positivo, cioè in realtà gli animali sembrano essere più bravi ad occuparsene che non gli umani. E quindi, insomma, c'è sempre quest'idea di un raccontare me stessa attraverso dei personaggi e soprattutto una me stessa che si pone delle domande, ecco. Quindi uso sempre il disegno un po' per chiarire delle cose a me stessa e anche chiedere agli altri cosa pensano su certe cose. Io adesso voglio focalizzarmi proprio sul momento creativo, questa è andata proprio dalla mia curiosità. Cioè, per esempio, quando realizzi un fumetto o una serie di illustrazioni, viene prima l'immagine o il messaggio che vuoi esprimere, il messaggio barra concetto che vuoi trasmettere? Cioè, qual è il rapporto tra questi due elementi, tra il visivo e quindi quello che sta oltre il visivo? Sì, ma questa è una domanda che mi viene fatta spesso ed è una domanda a cui è molto difficile rispondere per me perché non hai una percezione lucida al 100% di come stai procedendo. Cioè, allora, l'idea è vagola nella tua testa e incominci a cercare di dargli una forma e poi arrivi a definire, cioè, a dire a te stesso che l'ho trovata, ci sono, no? E quindi vai avanti. Però è tutto molto, non so come spiegare, è un po' una riflessione lunga che tu fai. Anche io uso spesso le parole, cioè, scrivo delle parole e non dei segni, non delle cose e le parole mi evocano qualcosa che è quel qualcosa a cui voglio arrivare. Però è... Dalle parole al disegno. Sì, sì, e poi quello che sento maggiormente è una temperatura. Cioè, ci sono dei soggetti, faccio un esempio che magari è più esplicativo. Non so, io collaboro molto per Internazionale già da tanti anni e loro, quando mi mandano un testo, io avverto immediatamente la cromaticità, il cromatismo. Cioè, sento che colori devo usare, ma mentre lo sto leggendo. E quello già mi spinge in una direzione. Perché proprio sentire il freddo, il caldo... Sì, oppure, non so, altre volte penso, ah no, qua è bianca e nera questa cosa, no? Cioè, non ha il colore, è priva di colore. Ma non per una qualità del testo, ma proprio per una temperatura, sì, un mood. E poi da lì, da lì vai. Sì, appunto, è una cosa che poi col mestiere, naturalmente, tutto diventa anche un po' più veloce, più facile. Però stai un po' su sul foglio, ci passi la tua mezza giornata, insomma. Io sono un appassionato di cinema, soprattutto l'elemento della sceneggiatura. Infatti sono un pan sprecatato di Tarantino. Uno dei miei film preferiti, fra l'altro, è Sin City, che è tratto dall'omonima graphic novel. Ecco, quindi, parlando di cinema e di sceneggiatura, ero curioso di capire, considerando anche che tu hai frequentato una scuola di cinema e sei anche diplomata in regia, Quale potrebbe essere la differenza nella scrittura di un'opera cinematografica rispetto a quella di una graphic novel, ad esempio, o di un fumetto? Ma non c'è una grossissima differenza. Cioè, forse quello che cambia è una questione di sintesi relativa al fatto che un fumetto normalmente sintetizza delle azioni che i personaggi fanno in maniera più stretta. Perché ovviamente, invece... Però direi che nel procedere si lavora quasi come si lavora sul cinema. Perché c'è anche, non so, l'aspetto delle location. Certo. Cioè, io per certi fumetti faccio anche dei giri a far foto in posti, eccetera, esattamente come facevo quando preparavo un film alla scuola di cinema. Quindi ci sono... Allora, ci sono tante cose simili, ma una fondamentale cosa diversa. E cioè che il cinema è un lavoro collettivo e invece il fumetto è un lavoro in solitario per la maggior parte. E questo, ecco, è la grande differenza che poi mette in gioco ovviamente il carattere di una persona. Ad esempio, io ho fatto scuola di cinema e poi mi sono resa conto che non sono... Proprio per l'ambiente. Non sono in grado di gestire tutto queste persone. Cioè, mi procura una grande ansia. Si trova più a tuo agio? Mi trova molto più a mio agio nel mio mondo, nel mio studio, da sola, ascoltando la musica, trovando... No, nella mia bolla. Mentre invece anche il cortometraggio più piccolo che puoi fare, però c'è sempre almeno tre, quattro persone con cui lavorare, giustamente. Non parliamo poi del cinema... Si, insomma, quello che si dà nei backstage. Eh, infatti. Infine, volevo che mi parlassi un po' della forza del non detto. Perché è chiaro che in un campo come il tuo, un fumetto per concreti limiti materiali, quindi legati alla pagina o alla vignetta, soprattutto alla vignetta, magari rispetto a un libro, non può raccontare tutto nella maniera più, diciamo, nel maggior modo, nel miglior modo possibile. Quindi, cioè, in maniera totalmente esaudiente, ecco. Quindi, secondo me questo però, allo stesso tempo, dà una grande forza evocativa a un fumetto o a una graphic novel. Assolutamente, ma bisogna considerare ciò che è visivo alla pari di quel testo che non c'è. Cioè, nel senso, mi è capitato anche in passato di parlare con persone che mi dicevano di avere un po' di disagio nella lettura contemporanea, no? Dell'immagine e del testo insieme. E lì poi, vabbè, è una questione anche, secondo me, di pratica, di abitudine a leggere i fumetti. Chi non è abituato magari può avere delle difficoltà. Però, se io, una volta che ho disegnato la scena, le luci, la cosa, poi vado a esagerare col testo, l'effetto è ridondante di Dascalico, perché io devo lasciare proprio lo spazio a chi guarda di percepire attraverso il mio disegno quello che io non gli sto dicendo con il testo. Cioè, il fumetto è proprio questo, riuscire a trovare un'armonia, un equilibrio tra questi due linguaggi che devono diventare un tutt'uno. Quindi è proprio fatto di pesi, no? Di cose, sì, che si devono armonizzare tra di loro. Quindi, è chiaro, nel disegno io devo magari anche suggerirti un dubbio oppure anche qualcosa che poi col linguaggio, col testo, man mano, seguendolo, tu vai a comprendere. E certo, per dare il ritmo. Poi, infatti, il ritmo è fondamentale, tutte le parti, anche di raccordo, dove magari lunghe sequenze mute, dove proprio c'è il respiro della storia. Mi ricordo sempre quando leggevo i fumetti, avevo sempre paura di ricevere, diciamo, uno spoiler, perché tirando la pagina magari arrivavo alla parte in cui... Quindi, vedevo prima quella parte nello spoiler, poi senza riuscire a leggere. Quindi, questo è... Eh sì, perché ce l'hai tutto lì, volendo. Chiaro. Benissimo. Siamo arrivati alla fine di questa intervista. Io ringrazio davvero Gabriella Giandelli per essere stata qui con noi. Insomma, per averci dedicato il tuo tempo. Non perdetevi, mi raccomando, la mostra disegni, che, ripeto, si darà alle 17.30 al complesso San Paolo, chiesa e sala delle monache. Ne ringrazio anche chi ci ha seguito fin qui. E vi ricordo di seguire Radio FSC Unimore sui canali Instagram, Spotify, YouTube, Facebook e anche sul nostro sito web per rimanere aggiornati su tutto. A presto. Sottotitoli